20 famiglie senza casa hanno occupato l'istituto religioso femminile FIE di San Giuseppe in via Oberdan, nel quartiere della Zisa Palermo. Oltre a famiglie palermitane ci sono anche nuclei familiari stranieri di origine eritrea ed etiope. Tutte raccontano di non avere un'abitazione propria e di vivere in casa di parenti o amici e qualcuno anche in dormitori. Tra loro anche i membri del comitato Prendo Casa e le altre famiglie dei conventi occupati in via loro e in via del Parlatoio.